Ben tornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi vi presento una nuova puntata di Ask The Wine. Ask The Wine, il vlog che risponde alle vostre domande e curiosità sul mondo del vino. Per fare una domanda è molto semplice, basta scriverla qui sotto nei commenti, piuttosto che sulla pagina Facebook o il canale Instagram, facendolo anticipare dall'hashtag Ask The Wine. Io la intercetterò e risponderò qui nei miei vlog domenicali. Oggi rispondo alla domanda di Rubino Diamante che a proposito di una degustazione che ho fatto un qualche tempo fa mi chiedeva cosa significava che il vino aveva una chiusura dolce. E questo mi permette un po' di parlare in maniera sintetica di appunto il gusto del vino, quindi le sensazioni gustative che noi andiamo a percepire quando andiamo a bere un calice di vino. Partiamo dal presupposto che in realtà quando parliamo di gusto non parliamo solo della sensazione che sentiamo in bocca, ma da un insieme di sensazioni che coinvolgono sia l'olfazione, quindi la parte retronasale, quindi gli odori che andiamo a percepire per via retronasale, il gusto in senso stretto, quindi proprio il gusto che sentiamo sulle papille gustative, ma anche delle sensazioni tattili, perché la lingua stessa ha una funzione tattile, quindi va a sentire determinate consistenze o comunque forme, la cosiddetta texture, come si chiama adesso qualcuno utilizza quando si parla di vino. Quindi partendo dalla bocca, che quindi è deputata a sentire appunto non tanto dei gusti quanto dei sapori, e quindi normalmente noi individuiamo 5 categorie, che sono quelle classiche che abbiamo un po' tutti studiato anche a scuola, che sono dolce, salato, amaro, acido e ultimamente, non recentemente, si è aggiunto anche lumami. Allora, detto che lumami all'interno del vino solitamente non si trova, perché è una caratteristica di sapore che si ritrova più facilmente, ad esempio, nella carne, piuttosto che nei formaggi, ci concentreremo sulle altre quattro, quindi sul dolce, sul salato, sull'acido e sull'amaro. Quindi dolce è ovviamente la sensazione che noi percepiamo quando in bocca mangiamo appunto qualcosa che contiene delle sostanze zuccherine. Acido è la sensazione che noi sentiamo quando appunto abbiamo delle sostanze che hanno un contenuto di acidi. Amaro, a sua volta, anche lui in realtà è determinato da determinati acidi, però hanno degli acidi che rilasciano delle sostanze che di fatto ci danno quel gusto appunto di amaro, che noi percepiamo come amaro. Infine il salato che invece è dato dal contenuto di sali all'interno del nostro vino, quindi sostanze minerali saline che noi andiamo appunto a percepire in bocca. Non tutti abbiamo le stesse percezioni, cioè la nostra bocca non è uguale per tutti, ci sono varie soglie di percezione dovute ad esempio a patologie, piuttosto che a sensibilità più o meno accentuate che ognuno di noi ha all'interno della sua bocca. Quando io parlo di sensazioni di questo tipo mi riferisco a quello che normalmente, a livello statistico, dovrebbero sentire l'80% delle persone. Quindi normalmente quando si parla di un determinato gusto è quello che dovrebbe essere percepito, sostanzialmente fatte 100 persone che assaggiano quel vino, dovrebbero sentirlo almeno l'80% delle persone per trovare un riscontro. Quindi questo è l'ambito dei quattro gusti. Altra parte del gusto è sicuramente la parte retronasale, cioè quello che noi sentiamo a livello di odori, principalmente con la parte appunto interna della cavità nasale, dove ci sono gli appositi recettori che ci permettono di anche sentire quello che noi chiamiamo odore. In realtà gli odori di sé per sé non esistono, o meglio, sono sempre delle sostanze che sviluppano determinate particelle che noi percepiamo con quel determinato odore. Ma sicuramente una funzione molto forte nell'odore lo hanno le nostre immagini, cioè noi normalmente ricordiamo più facilmente un odore se lo associamo a un qualche cosa, a un ricordo, piuttosto che a un'immagine molto forte. esempio, l'odore della rosa, tanto per fare un esempio, non si sente perché lo diciamo è la rosa, ma perché molto probabilmente a livello nostro inconscio mentale lo andiamo ad associare al fatto di magari da piccoli aver posto il naso vicino a una rosa e quindi aver sentito quel particolare odore. e quindi noi lo associamo appunto alla rosa, piuttosto come il pane, l'odore di pane che lo sentiamo appunto quando ricordandoci magari di aver mangiato un bel pane fragrante magari appena sfornato che con il suo classico appunto odore. Quindi tutte queste sensazioni, sia appunto gustative in senso stretto della lingua che olfatti, retronasali olfattive da parte del naso, ci danno poi due parti di quello che noi consideriamo il gusto. In più noi andiamo ad aggiungerci anche le sensazioni tattili. Quando noi andiamo a degustare un vino, il vino in realtà lascia comunque delle sensazioni di, quando noi sentiamo parlare di esempio morbidezza oppure sentiamo parlare di spigolosità del vino. Sono termini che a volte vi sarà sicuramente capitato di sentire quando si degustano appunto dei calici. In realtà è di fatto delle sensazioni a livello tattile che la nostra lingua percepisce proprio per una reazione a determinate sostanze che sono contenute all'interno del vino stesso. Normalmente sono date dagli acidi che normalmente hanno questo effetto di spigolosità, normalmente si trova molto su vini che hanno un'attacarica tannica ad esempio, magari un po' sbilanciata. Oppure quella sensazione di bruciato che ad esempio è dato dall'alcol quando è sopra una determinata gradazione alcolica. Ecco, sono tutte sensazioni di tipo tattile che però appunto poi andiamo a ritrovare in degustazione e che quindi vanno ad influenzare il nostro giudizio sul vino. Quindi, di fatto, in realtà non siamo tutti uguali, quindi questo è un po' l'ambito, diciamo, la conclusione di questo video. Non siamo tutti uguali, ognuno percepisce sapori in maniera diversa, però diciamo che l'80% dovrebbero comunque rientrare nelle caratteristiche che noi andiamo a sentire. Poi, ovviamente, ci si può entrare più nello specifico, cioè nel tempo, degustando diversi vini e magari facendosi accompagnare da persone più esperte, si può andare a individuare appunto diversi sapori. Quindi ritrovare molto probabilmente anche a livello gustativo quello che solitamente si sente al naso. Ad esempio, se noi sentiamo il gusto di mora, tanto per fare un esempio, al naso, quando partiamo appunto anusando il calice, dovremo poi ritrovarlo anche come gusto, lo potremo ritrovare solo appunto magari con un po' di esperienza. Pian piano, degustando, stando attenti alle varie sensazioni, si riesce anche a ritrovare molto spesso il gusto sia del olfatto che appunto a livello di palato. Questo particolare consiglio che vi do è appunto esercitarvi, quindi esercitarvi come sicuramente annusando il più possibile, degustando il più possibile e magari anche tramite libri piuttosto che partecipando a delle degustazioni, farvi indicare prima quali sono i gusti che si potrebbero trovare in quel vino, in modo che voi pian piano li impariate a riconoscere e poi ritrovarli anche nelle altre bottiglie di altri vini che andrete poi a bere. Bene, per oggi direi che concludo qui. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Iscrivetevi al canale e condividete il video con i vostri amici. Vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere. La seconda è che non bisogna bere prima di metterci alla guida o fare attività pericolose e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su Ask The Wine e su The Wine Channel.